Punterà sul turismo religioso anche la Regione Campania e lo farà con nuovi investimenti per la funicolare di Montevergine gestita ad AIR. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì, alla vigilia delle celebrazioni per il nono centenario dell'abbazia. Comincia domenica mattina l'anno delle celebrazioni dell'abbazia di Montevergine, si celebra il nono centenario dell'abbazia di Montevergine. Sarà presente il Cardinale Parolin, lo accoglieremo ovviamente a mercogliano, poi saliremo con la funicolare che la Regione ha riattivato da qualche anno. L'uso della funicolare sarà per l'occasione gratuito, arriveremo quindi al santuario e devo dirvi che abbiamo deciso proprio per incentivare il turismo religioso a Montevergine. Abbiamo ogni anno un milione e mezzo di fedeli che arrivano a Montevergine, abbiamo deciso di realizzare un investimento importante a mercogliano nella parte bassa, ovviamente nella prima stazione della funicolare, di riqualificazione urbana e anche di realizzazione di un parcheggio importante, centinaia di posti auto, sempre per incentivare l'arrivo anche di fedeli e di turisti religiosi a Montevergine. Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministratore unico di Air Campania, Antonio Acconcia. Quello che sta facendo la Regione per riorganizzare i trasporti è uno sforzo enorme e ringrazio il Governatore De Luca e il Presidente della Quarta Commissione regionale, Luca Cascone. Dalla riapertura della funicolare nel 2016, grazie all'intervento della Regione, ad oggi i dati fanno registrare oltre 273 mila viaggiatori, con una media di circa 40 mila utilizzatori l'anno. Dal 2020, nonostante le chiusure e le restrizioni a causa del Covid, sono stati quasi 100 mila i passeggeri saliti a bordo della funicolare. Abbiamo chiuso il 2022 con un aumento del 30% rispetto alle due annualità condizionate dalla pandemia. Un dato che si consolida, conclude Acconcia, nel primo quadrimestre del 2023, segno che in questi tre anni Air Campania ha lavorato bene. Grazie a tutti.